A seguito della scomparsa di Giorgio Squinzi, la Lega di Serie A ha deciso di rinviare ufficialmente la gara tra Brescia e Sassuolo, anticipo previsto questa sera. La partita sarà recuperata mercoledì 18 dicembre. Questa è la nota della Lega. Il presidente della Lega professionisti Serie A, in considerazione della scomparsa del dottor Giorgio Squinzi, patron della società Unione Sportiva Sassuolo, dispone il rinvio della gara contro il Brescia, programmata per venerdì 4 ottobre, valida per la settima giornata di andata del campionato di Serie A, a mercoledì 18 dicembre 2019 con inizio alle ore 20.45. La partita contro il Genoa potrebbe essere decisiva per il futuro sulla panchina del Milan di Marco Giampaolo. Come successore nelle ultime ore sono stati fatti diversi nomi di allenatori attualmente liberi, tra questi l'ex tecnico dell'Inter Luciano Spalletti. Proprio su questa ipotesi il mister aveva dichiarato alcuni giorni fa che ci azzecco io col Milan, ho un contratto con l'Inter, lasciate lavorare Giampaolo e l'astro nascente del calcio italiano, sono fuori perché mi hanno fatto fuori. A conferma del fatto che il Milan non rientri nei suoi piani futuri, anche il rifiuto che Spalletti avrebbe fatto recapitare al club rosso-nero proprio nelle ultime ore. Un nome in meno quindi nella lista del totolenatore milanista. Perde pezzi in difesa al Napoli di Carlo Ancelotti. L'ultimo infortunio in ordine di tempo riguarda Mario Rui. Al portoghese, a seguito della sfida di Champions League contro il Genke, è stata riscontrata una elongazione al bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni verranno rivalutate tra una settimana, si legge sul sito del Napoli. Il giocatore azzurro dovrà quindi saltare la sfida di campionato contro il Torino in programma domenica alle ore 18, potendo però usufruire della sosta del campionato per recuperare e tornare disponibile. La Formula 1 potrebbe avere una nuova presenza made in Spagna a partire dal 2021, con l'entrata in vigore delle nuove regole per il Circus. È infatti in fase di progettazione un ambizioso piano per far approdare una nuova scuderia inedita e completamente spagnola, il Campus Racing Team, che già compete in Formula 2 e Formula 3. Riguardo al futuro, Salvatore Gandolfo, coproprietario del team, ha dichiarato «Partecipare al Mondiale di Formula 1 a partire dal 2021 sarà un progetto a lungo termine. Noi siamo consapevoli delle grandi sfide che ci attendono, ma abbiamo un team di esperti che lavora giorno e notte, e la solidità finanziaria richiesta dalla FIA per rendere questo progetto un successo». Per quanto riguarda i piloti, non ci sono ancora nomi certi, ma la lista dei candidati è breve.